bella tutta ci sono io domini clef con un mio amico paolo sul se su mini giochi siamo solo in due perché nessuno è entrato allora prendiamo questo qua prendiamo questo questo l'arco che serve ma niente di già fuori 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 sì 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 ma dovevi la spada avevo col bastoncino di legna il preparo o questa mappa c'è nessuno perché la lenta adesso sono attendo in una partita giappone barbone non ha niente barbone non ha niente la spada di diamante no si è rotta la spada di amante si è rotta non manco va bene ti lascio anche se intanto se non ti riesco a prendere poi ci sarà il match quindi fuori fuori aiuta 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 si è unito uno ma il gioco è là dopo ti ho beccato si facciamo la terza partita è ultima visto che siamo in tre anche 2 12 sconto l'amalaggante così interco di sconto arco gianni armatura gianni doppio arco non mi ha preso niente a me addio a fa culo ho risultato la ricarica arriva 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 ma perché voglio sempre ora ma dove l'altro giocatore ho bisogno dell'altro giocatore ce l'hai in cura mamma ta dai aiutami è sopra di te dai gira che girati gira mai la in qualche modo ci devo salire la vedo una scala la infatti si è bevuto una pozione attento due pozioni si è bevuto io veloci forte io ho venuto la porzione della velocità sono diventato maestro per il gioco è diventato mai guadagnato troppo l'episodio termina qui da paolo e dominic finisce qua ciao bella